ciao amici bentornati nella mia cucina ora vi mostro un piatto veloce veloce e buonissimo io dispongo un filo d'olio su una padella antiaderente e una bella sporata di parmigiano e subito ci verso della pasta che ho fatto bollire con gli asparagi e poi la faccio saltare mescolo bene la faccio saltare giusto per qualche minuto e poi posso impiattare ed eccolo qui il piatto pronto per essere mangiato ricapitoliamo ho fatto bollire l'acqua l'ho salata e ho versato gli spaghetti nel momento in cui gli spaghetti hanno iniziato a bollire ho versato gli asparagi e ho coperto con un coperchio l'acqua ripreso a bollire da quel punto da quel momento in poi sono stata attenta a scolare gli spaghetti nel momento in cui erano al dente e poi li ho saltati con un filo d'olio del parmigiano e li ho impiattati ho aggiunto un ulteriore spolverata di parmigiano questi sono gli ultimi della scorsa stagione tra poco ci saranno i nuovi ed è un'idea semplice per preparare un ottimo piatto ciao a tutti